bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuger e ragazzi siete riusciti ieri a raggiungere la soglia dei 18.200 iscritti quindi come vi avevo promesso ragazzi uno di voi si porterà a casa una bella carta da 10 euro che potrà spendere come meglio crede o per acquistare il nuovo pass battaglia o per comprare dei vbucks extra o altrimenti se non vi interessa per ricaricare il proprio telefono o da spendere sulla ps4 o da spendere sulla xbox tutto quello che dovete fare ragazzi è commentare questo video con il vostro indirizzo mail ed essere presenti in live questa sera alle 19 e 30 mi raccomando fatelo girare ragazzi e il nuovo contest è già in corso passate nella live e scoprite come vincere un'altra carta da 10 euro noi ci vediamo presto mi raccomando voi commentate e condividete ciao